mi chiamo bianca ciao chi è che starnutisce? starnutiscono leo e la macchinina rosa vai a vedere macchina macchina leo salute come mai le macchinine si sono ammalate? non ci siamo lavate i denti non ci siamo lavate le mani cioè le ruote bianca dobbiamo curare le nostre macchinine mettiamo le gocce nel naso e nella bocca lì nella scatolina vicino al pinguino ci sono le gocce prendi la scatola portala alla mamma e alle macchinine apriamo dove sono le gocce? eccole il tappo leo prima tu adesso tu non aver paura non aver paura dov'è il suo naso? css css ccc 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 ccccccc ccccccc adesso le macchine stanno bene e a noi le gocce non servono noi non siamo malate vero bianca? non siamo malate perché mangiamo molta frutta e verdura sono frutti giocattolo e dov'è? gnam gnam la frutta vera guardiamo in frigo apriamo c'è la frutta? c'è la frutta? c'è l'uva passa? 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 non c'è chiamiamo adrian tieni pronto adrian ci servono tanti frutti diversi grazie frutti grazie 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 un'arancia 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 e una mela mandarino 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 e un limone ananasi 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 e l'anguria una pesca una pesca una pesca una pesca una pesca albicocca 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 e pompelmo delle pere delle pere delle pere delle pere e fragola la frutta bianca ah bianca scendi subito dal tavolo magari adrian trova altra frutta ah cos'è? una pesca no è una pera e questo? pesca un noce pesca è molto simile a una pesca albicocche albicocci fragole bisogna togliere il picciolo così a bianca buono e fa bene e a te piace la frutta? fa molto bene scrivici che frutta hai mangiato oggi a presto ciao ok